Un'altra notte di paura, la terza trascorsa in strada per gli abitanti dell'Alta Garfagnana e della Lunigiana. La terra continua a tremare, quattro scosse in meno di 24 ore. La più forte, di magnitudo 3.1, ha svegliato la popolazione nel cuore della notte. È cominciato sabato una notte, poiché per verso le 5. Abbiamo sentito la scossa a Berlati e si è scappato via. Da giovedì nessuno dorme sonni tranquilli. Tutti hanno preferito lasciare le proprie case. Se c'è chi ha cercato ospitalità da amici e parenti, chi invece ha dovuto accontentarsi della propria auto. Anche se finora sono una ventina gli edifici dichiarati inagibili, la gente ha paura di tornare anche in quelle case definite sicure. I muri lesionati, spaccati dalle crepe, spaventerebbero chiunque. Il susseguirsi di tutta una serie di scosse di non poco conto, ma che a oggi sono oltre 700, diventa snervante per tutti i cittadini. Anche più calmi, perché poi dopo la paura non la controlli più. Non c'è medicina per la paura, non c'è niente. Intanto prosegue serrato l'allestimento delle tendopoli. Al lavoro finito ci sarà posto per oltre 2500 persone. Molti disfollati che già hanno trovato rifugio nei centri di accoglienza. Noi siamo qui da tre giorni. Da quando è iniziato il terremoto siamo scesi giù, siamo stati accolti benissimo dal comune di Fivizzano e dal sindaco. Non possiamo lamentarci di niente perché si sono subito allertati e hanno provveduto a trovarci una sistemazione. Non è?